Bene, benvenuti, vediamo come realizzare questo piccolo sistema solare in miniatura di cui ho fatto un video, un rendering, qualche ora fa se lanciamo questo progetto Godot vediamo che a parte lo sfondo che ho aggiunto è anche delle luci comunque sostanzialmente quello che succede è che abbiamo dei pianeti che ruotano su ruote e su orbite circolari quindi ancora una cosa molto semplice ma oltre a girare pianeti, quindi avete il sistema Terra-Luna che gira attorno al Sole, abbiamo anche un Saturno che gira con una velocità differente e inoltre abbiamo anche la camera che sta facendo un fly-through, quindi sta ruotando attorno a questo sistema e permetterà quindi di vedere di fare dei giri, cosa che mi è stato anche chiesto per ottenere degli effetti interessanti altra cosina che ho fatto, ma sono soltanto piccole bellezze vedete che ho messo un pochino di riflessione e di ombre sui pianeti ma insomma sono tutte cose che si possono fare con tranquillità allora la struttura del programma, come vedete, è semplicemente dell'applicativo sono questi file e i file sono allora abbiamo delle strutture qua che sono delle immagini che rappresentano in questo caso questa qui è la Luna questo qui è una texture che sono delle immagini equirettangolari che si trovano su internet basta cercare sole o sun in inglese equirettangular e si ottengono queste mappe queste mappe possono essere tranquillamente applicate a una diciamo a una sfera e analogamente ho trovato anche una via lattea che è questa via lattea che permette praticamente di è sempre un'immagine equirettangolare che abbiamo messo come sfondo per dare questo effetto quindi a parte le immagini che sono la quasi totalità l'altra cosa che ho fatto è stata semplicemente quella di mettere l'immagine qua panorama sky e lì nel panorama sky gli ho messo l'immagine della via lattea tra l'altro qui possiamo anche mettere sono abbastanza a posto così e abbiamo sostanzialmente fatto una scena che è questa qui che state vedendo che si chiama main in questa scena abbiamo messo i vari pianeti quindi abbiamo messo il come vedete abbiamo il sole che è questo e il sole se lo andate a vedere nell'inspector abbiamo messo una mesh che era una una sfera mesh e poi gli ho aggiunto il materiale il materiale è questo material override e nel material override ho aggiunto la texture che è quella equirectangolare che abbiamo visto prima gli ho messo anche che emissive per farlo un pochino luminoso e poi ho cambiato alcune cosette ma sostanzialmente la parte fondamentale è questa se non lo facciamo emissive diventa un pochino più scuro quindi ho giocato sostanzialmente su questo poi ho messo la terra che è questa la terra l'ho messa anche lì con lo stesso criterio come ho visto prima l'ho messa forse leggermente riflessiva quindi nel materiale della terra l'ho messo qua dunque c'era ok emission texture ok gli ho messo specula gli ho messo specula era uno in modo tale da dare un pochino di riflessioni per il resto gli ho messo anche un emission la luna è praticamente identica e il sole e il giove anche fatte in maniera identica quindi semplicemente gli ho aggiunto una mesh poi gli ho aggiunto il material override la cosa interessante di tutto ciò è che a tutti questi pianeti gli ho messo uno script questo script è questo lo script non mi interessa in particolare cosa c'è ma comunque sostanzialmente è fatto da due parti una parte che fa ruotare il pianeta attorno all'asse verticale che è semplicemente una cosa che imposta rotation degrees a un valore che progressivamente aumenta con determinate velocità e poi ho fatto in modo tale che lo script si possa mettere esternamente alcuni parametri e tra i parametri c'è e lo vediamo proprio qua sul sole abbiamo che i parametri dello script sono questi quindi speed node raggio dell'orbita e velocità dell'orbita ora il sole come vedete ha una velocità di rotazione 0,1 quindi gira praticamente con questo fattore e non è assegnato a nessun nodo quindi non ruota in orbita attorno a nessun'altra cosa se dovesse orbitare avrebbe un raggio dell'orbita molto grosso 500 è una velocità di orbiting di questo tipo andando sulla terra invece gli ho messo che la terra ruota attorno al sole intanto gli ho messo speed meno 1 per farla ruotare la velocità nella direzione apposta a quella che sta ruotando il sole giusto per vedere e poi nel nodo gli ho detto di ruotare attorno al sole questo semplicemente qui è possibile cliccando su questo oggetto seleziona attorno a quale oggetto ruota quindi ruota attorno al sole il raggio dell'orbita è 10 quindi questo raggio è 10 e la velocità con cui ruota è 0 e 0,1 nel senso piccolo la luna invece gli ho detto che ruota attorno alla terra vedete e la sua velocità di rotazione lo cambiate un po' il raggio dell'orbita prima era 10 e se lo mettiamo a 2 per controllare e la velocità con cui orbita è 0,1 quindi più velocemente di quello che fa la terra e analogamente il Giove ha una cosa simile nel senso che gli ho messo che ruota attorno al sole la sua orbita il raggio dell'orbita è un po' più lontano quindi la terra era 10 questo l'ho messo a 15 e la sua speed orbita l'ho messo abbastanza basso in modo tale che faccia una rotazione attorno al sole più lentamente di quello che fa la terra quindi in questo modo abbiamo ottenuto questa cosa in più ho messo ancora un directional light questa che è una luce che ho messo che gira fa solo le ombre niente di che è una cosa molto semplice si può anche fare meno e la cosa invece interessante di tutta questa di questa cosa è che ho messo un path che è questo questo path l'ho costruito c'è proprio un'opzione che permette di inserire dei path magari ve lo faccio vedere e ho fatto in modo tale che la camera praticamente fa questo giro quindi la camera segue tutto questo giro e questo si fa creando un path il path è una specie di bezier vedete che fa una cosa un po' curva possiamo controllare il modo in cui gira praticamente con queste cose e gli ho messo poi un path follow il criterio per far muovere la telecamera sostanzialmente è prima fare un path poi mettere un path follow il path follow è semplicemente una cosa che serve per l'animazione e il suo obiettivo è di avere dei campi dentro che sono unit offset che indicano praticamente vedete che se io faccio così vedete che mi fa vedere che il path follow segue il path e va da 0 a 1 lo unit offset da 0 a 1 è molto interessante perché noi dobbiamo animare questa cosa quindi qui abbiamo due tipi diversi di animazione l'animazione che è ottenuta attraverso uno script tra l'altro qui sono 4 script ma lo script è unico e l'animazione viene ottenuta semplicemente spostando la rotazione oppure in questo caso si fa global transform origin quindi spostando l'origine cioè il punto in cui il pianeta si trova e il punto in cui il pianeta si trova è ottenuto dall'origine del pianeta attorno al quale sta ruotando quindi se si sposta quello ci sposteremo anche noi e in più ci applichiamo questo vettore che indica con la tecnica del raggio per coseno e raggio per seno una traiettoria circolare attorno a questo pianeta questa equazione l'equazione della circonferenza è relativamente semplice quindi se noi cerchiamo circonferenza equazione l'equazione della circonferenza probabilmente ci sarà ecco qui ci sono vari siti che definiscono come struttura quindi di qua mi sa la formula e vabbè adblock ok accettiamo quindi questa è l'equazione della circonferenza vedete che l'equazione della circonferenza viene ottenuto praticamente partendo da un punto centrale che si chiama c vedete che c'è certe coordinate e poi si applicano in funzione del raggio le funzioni coseno e seno che dicono poi esattamente come gira quindi la cosa che si troverà anche qua ecco direi che Wikipedia è molto più interessante perché la circonferenza su Wikipedia ci fa vedere come la circonferenza e a noi ci interessa l'equazione parametrica l'equazione parametrica è questa e ci dice che la circonferenza è esprimibile come un punto iniziale x0 e poi il raggio dove la x diventa x0 più r per cos di un angolo e la y è y più r per sin il seno di quell'angolo quindi praticamente soltanto preso questa equazione parametrica si chiama della circonferenza e l'ho applicata qua quindi qui ho fatto il centro l'origine quindi qui la difficoltà fondamentale è stata quella di trovare il nodo che gli abbiamo dato e di questo nodo trovare le sue coordinate questo è il meccanismo che ha trovato le coordinate centrali del pianeta attorno a qui orbita e poi prendo le mie coordinate cioè setto le mie coordinate l'origine uguale all'origine del nodo più questo r per cos per la x e r per sin per la z che sono le due coordinate insomma attorno a qui gira non è essenziale che voi capiate questo script però notate che è abbastanza semplice la cosa interessante di questo script è proprio che marcando export è possibile specificare questi parametri direttamente nell'editor quindi andando nella se noi andiamo nella visualizzazione 3D qua e e cambiamo andiamo su sole quindi vogliamo cambiare alcuni parametri possiamo cambiarli tranquillamente peraltro una cosa interessante di Godot è che se noi siamo in play quindi se noi andiamo in play e magari lo mettiamo un pochino qui sulla sinistra facciamo mettiamo le due cose e poi ci prendiamo le coordinate qua e se noi prendiamo la terra e gli cambiamo alcuni di questi parametri possiamo cambiare la velocità con cui gira e ruota quindi ad esempio se la speed invece che 0,01 la mettiamo in 0,1 vedete che la terra improvvisamente gira molto più velocemente quindi l'aspetto didattico di questo di Godot è che è possibile proprio prendere delle equazioni e vedere quali sono gli effetti quindi se qui mettiamo 0,1 anche in Saturno vedete che anche Saturno improvvisamente si mette a girare molto più velocemente o se no mettiamo 0,01 vedete che rallentiamo in tempo reale quindi controlliamo esattamente come si comporta quindi andiamo ancora sulla terra invece che 0,1 mettiamo 0,05 e vedete che abbiamo rallentato vistosamente la terra e la luna se vogliamo velocizzarlo mettiamo ad esempio 1 vedete che abbiamo praticamente fatto in modo tale che la luna giri vorticosamente se invece gli mettiamo 0,5 gira sempre molto velocemente e possiamo adesso questi 0,1 e quindi gira in questo senso se prendiamo il sole possiamo cambiare la velocità con cui il sole ruota attorno a se stesso quindi adesso abbiamo visto che il sole sta ruotando con un 0,1 aspettiamo che compare il sole nella nostra o se no vediamo un po' se riusciamo a prenderlo il sole no facciamo non l'abbiamo più cuccato facciamo un reprise quindi rifacciamo quindi il sole è in visualizzazione se noi andiamo sul sole qua gli mettiamo ad esempio 1 vedete che facciamo ruotare attorno al suo asse il sole velocemente se gli mettiamo 10 ruota vorticosamente quindi tutte queste impostazioni sono modificabili da questi parametri questi script variable ok ora la cosa in realtà più interessante anche in questo progetto è diciamo prima il path che segue la camera cioè praticamente la camera segue un percorso e questo percorso qua abbiamo detto che è definito da un path da un path follow questo path follow abbiamo visto che cambia a seconda del unit offset quindi quello che noi vogliamo fare è animare la camera per animare la camera basta metterla sotto il path follow quindi figlia di path follow a questo punto quando cambierà questo unit offset la camera si muove e abbiamo bisogno di un animation player l'animation player io qui ho fatto un animation player che è fatto nell'arco di 100 secondi e nell'arco di 100 secondi gli ho messo alcuni keyframe quindi sostanzialmente cosa sono andato sono andato qua e ho creato un'animazione e questa animazione gli ho aggiunto facciamo finta di trarne una nuova quindi facciamo add track e gli dico cosa voglio animare animo questo quadrato quindi animo il property track quindi che cosa voglio animare voglio animare la path follow e del path follow voglio animare la unit offset mi ha creato questo signore qua ora qui per unit offset sostanzialmente è un numero tra 0 e 1 quindi devo creare un insert key questo questo insert key lo metto all'inizio e gli metto che il valore che voglio animare sia 0 quindi partiamo da 0 e poi sono andato in fondo e qui in fondo ho aggiunto un altro insert key vedete che adesso viene la linea orizzontale quindi vuol dire che è inalterato però gli metto che va a 1 ok? quindi quello che succede è che a questo punto quello vecchio lo togliamo sto animando praticamente la telecamera ecco quindi questo è il ok? se togliamo questo questo path di animazione è quello che ho ottenuto effettivamente ciò che abbiamo visto tutto quello che avete visto in realtà è pubblicato su github e su github abbiamo sotto salazar godot lo vediamo magari qua quindi salazar godot e qui andiamo sotto ellissi e qui trovate praticamente un readme e potete fare lo scarico di questo progetto con tutte le scene con tutto lo script e con tutte le immagini che ho usato e ritengo che fare queste cose con godot renda molto di più e sia alla fine più facile e più divertente che non farle con blender ho cercato di farle in tutti i modi possibili con blender fargli seguire in orbita e al di fuori delle possibilità umane nel senso che si possono fare delle cose ma animare queste cose e poi trasportarle in godot o in sketchfab richiede proprio delle competenze non banali mentre invece se lo facciamo direttamente in godot abbiamo visto che basta mettere delle mesh ed è possibile costruire appunto questo scriptino che implementa di fatto una trasformazione di coordinate e che fa seguire lungo orbite circolari se volessimo un'altra equazione attraverso l'es bisogna cambiare soltanto questa equazione e poi l'altra cosa che appunto vi dicevo è il path per la telecamera spero di averlo spiegato benino ecco se vogliamo possiamo fare un piccolo esempio nel senso facciamo più e andiamo a costruire una scena 3D dove vi faccio vedere come è costruito il path allora il path 3D praticamente cosa facciamo andiamo innanzitutto dall'alto quindi vediamo dall'alto questa cosa e prendiamo una scena 3D e in questa 3D magari la mettiamo in modalità ortogonale c'è già ok e in questa scena 3D facciamo quello che abbiamo fatto prima cioè aggiungiamo un path il path quando abbiamo il path dobbiamo aggiungersi dei punti quindi facciamo un path che vada un punto qua poi gli facciamo un punto qua un punto qua e un punto qua e poi chiudiamo il path con questo il path vedete che facendo così il path in realtà seguirà una traiettoria che è un po' strana ma noi per aggiungere invece per farle in modo tale che sia un pochino a bezzie cioè che sia a curve curve diciamo belline da vedere andiamo ancora a cliccare qua perché qua abbiamo la possibilità di usare shift e facendo shift possiamo manipolare praticamente il modo in cui la curva si presenta e quindi lavorando e trascinando con lo shift possiamo rendere la traiettoria diciamo abbastanza e poi lavoriamo ancora qua sempre con lo shift possiamo controllare di qua e possiamo controllare praticamente di qua in questo modo abbiamo ottenuto un path quindi il path praticamente segue questa struttura se noi a questo path gli aggiungiamo un follow path quindi facciamo più path follow scusate il path follow abbiamo detto che ha queste benedette cose e poi sotto possiamo metterci per esempio anche una mesh nell'altro esempio abbiamo messo la camera quindi se noi mettiamo un add child node e gli mettiamo una mesh così vediamo anche proprio il meccanismo costruttivo quindi mettiamo una mesh instance questa mesh instance la mettiamo una sfera vedete la sfera è troppo grossa per questa cosa quindi perché abbiamo qua poi facciamo shift la restringiamo alla sfera gli mettiamo anche un materiale che adesso è vuoto quindi gli mettiamo uno special material e questo special material gli possiamo mettere un albido quindi un colore della cosa oppure una texture quindi possiamo farlo diventare rosso ad esempio e poi possiamo anche farlo diventare metallico piuttosto che speculare insomma tutte queste cose che sappiamo sappiamo abbastanza controllare in questo caso vedete che abbiamo fatto una cosa molto metallica possiamo anche metterci un po' di emission facciamo mettergli luce questa tipo rossa però lo facciamo 0.01 ok no 0.05 e poi qui possiamo prefere multiply o add mettiamo multiply ok quindi questo oggetto per dire vogliamo fargli seguire la traiettoria quindi per fargli seguire la traiettoria lo vediamo dall'alto lo spostiamo all'inizio della traiettoria e intanto controlliamo se lo segue effettivamente quindi andiamo qua sull'unit offset e vediamo stiamo aumentando l'unit offset lui segue la traiettoria direi che bisogna quindi mettiamo praticamente il concetto che bisogna fare in modo tale che la traiettoria che l'oggetto sia il punto 0 del path follow e poi adesso dovremmo essere un pochino più ecco vedete che il nostro oggettino segue esattamente la la curva per fargli seguire in automatico occorre mettergli un'animazione quindi possiamo mettere un'animazione a questo path facciamo più poi faccio animation player che è questo animation player gli creiamo una nuova animazione facciamo curva sfera rossa ok e poi facciamo quell'add track quindi add track property track prendiamo il path follow e di questo prendiamo l'unit offset e qui facciamo quello che vi ho detto quindi qui gli mettiamo un'animazione di 20 secondi e al punto 1 gli aggiungiamo un qua gli aggiungiamo insert key l'insert key lo andiamo a clicchiamo e gli mettiamo 0 ok poi andiamo in fondo qua quindi per esempio 20 e qua il valore e qui facciamo dobbiamo fare un insert key anche qua ok e qui gli mettiamo 1 e questa è l'animazione quindi quello che succede è che spostando l'animazione vedete che abbiamo il nostro oggetto che si sposta lungo l'orbita ora all'inizio io ho usato l'animazione per fare le orbite dei pianeti ma ho visto che era praticamente impossibile fare un percorso perfettamente circolare e per quello che poi sono andato sullo script per evitare di impazzire qui giusto per dire quindi meccanismo costruttivo ho solo aggiunto ancora una light che è una directional light ecco la directional light praticamente aggiunge un dunque vediamo un po' se riusciamo a spostare questa giusto per dire questa qui è la directional light e questa possiamo dire il colore con cui illumina ad esempio qui possiamo farla gialla giallina e possiamo controllare anche l'intensità dell'illuminazione poi l'altra cosa appunto abbiamo messo la telecamera altrimenti se facciamo il play di questa scena questa dobbiamo salvare la scena e questa la chiamiamo sfera rossa vedete che non si vede niente perché dobbiamo mettere una telecamera quindi la telecamera la mettiamo qua add child camera vedete che inizialmente è lì noi possiamo però spostarle la telecamera in modo tale da vedere un pochino ecco in pratica preview ci dice come vediamo il pianeta perfetto quindi se noi a questo punto facessimo il play di questa scena dovremmo vedere in realtà ah no non la vediamo muoversi perché ci siamo dimenticati di dire che l'animazione deve essere il default deve essere in in loop e poi ancora dobbiamo scegliere la current animation qua quindi animation player e qui non è stop mettiamo curva sfera rossa e vedete che qui cambiamo praticamente il nostro oggetto che si muove qui facciamo il play no questo era il play dei pianeti facciamo il play di questa scena ecco qui questo difetto iniziale è dovuto al fatto che l'animazione l'animazione la riprendiamo animation questa cosa qua vedete che era 0,9 invece dovevo mettere 0 ok 0 il tempo quindi parte dal tempo 0 e direi che a questo punto l'animazione dovrebbe venire benino vedete che c'è il pianeta che ruotando si avvicina e poi fa tutto il suo giro questo è anche un modo per fare le animazioni ma che dicevo ha dei problemi perché non si riesce ad ottenere delle orbite perfette o comunque è molto difficile ottenere delle orbite perfette ah c'è un altro difetto quindi andiamo un attimo a vedere quindi qui è 19,9 dobbiamo mettere 20 ok quindi dovremmo vedere che a questo punto non c'è più i due difetti di prima quindi partito liscio si fa il giro tutto il giro lo fa abbiamo detto in 20 secondi quindi è arrivato si è fatto sul giro e poi arriva a 0 ecco vedete non c'è più ah no c'è un piccolo difetto quindi c'è ancora un micro difetto da risolvere in qualche modo ma insomma siamo è il minimo in questa situazione quindi io direi che per animazione di pianeti orbite eccetera almeno per fare delle cose elementari questo è tutto tutto tutto